In Abruzzo abbiamo avuto un calo di circa 17.000 unità, che sono tante, pari al 3,5%, mentre in Italia c'è un aumento dell'1,5%. Ora il problema a mio avviso qual è? È che stiamo pagando le conseguenze di quanto è accaduto con il terremoto da un lato e con il maltempo dall'altro lato. Infatti l'accentramento delle occupazionali in senso negativo si realizza proprio nel settore dell'agricoltura, circa 11.000 persone in meno. Quindi la disoccupazione aumenta e tocca un tetto del 13,7%. Numeri preoccupanti che però potrebbero cambiare e migliorare nei prossimi mesi, almeno questo l'auspicio. Io credo che nei prossimi trimestri ci sarà un miglioramento, non vedo dubbio. Un miglioramento che dovrebbe portare a una caduta della disoccupazione. Però i problemi strutturali che questa regione ha di fronte permangono. Nel senso che noi abbiamo una sofferenza diffusa delle piccole imprese che non riesce a riprendere il ritmo del passato. Le nostre piccole imprese ancora risentono della domanda interna. Infatti il terziario aumenta leggermente, ma è lontano dal 2008, cioè dal periodo precrisi. Il masterplan di cui tanto si parla è un'occasione che non va sprecata. Va subito messa in cantiere perché di solito gli investimenti pubblici fanno da traino agli investimenti privati. Quindi il masterplan è fondamentale. Ed è fondamentale che noi cominciamo a risolvere il problema della disoccupazione giovanile. È uno spreco immenso di risorse che noi esportiamo verso le altre regioni. Quando la disoccupazione giovanile, come è noto, è un problema centrale, il lavoro è un problema centrale di questa regione. Che non è solo un fatto economico, è un fatto di dignità, è un fatto di inclusione sociale, è un fatto di senso della vita per molti giovani.